ora la speranza non delude perché l'amore di dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo spirito santo che ci è stato dato infatti mentre noi eravamo ancora senza forza cristo a suo tempo è morto per gli empi difficilmente uno morirebbe per un giusto ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire dio invece mostra il proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori cristo è morto per noi lettera di paolo ai romani capitolo 5 versi 5 a 8